I prof ti danno la possibilità di farti interrogare, ma devi rientrare entro il 15 marzo. Non insisterò con domande se tu non vuoi rispondere. E fuori fuori, quando è che non esci? Non insisterò con domande a cui tu non voglia rispondere, eccetera, 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 eccetera. Ma per fare che? Non ce l'ho col mondo. Non ce l'ho col morti viventi. Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto veramente? L'ora con te sta per finire, va bene? Non c'è nessuno a scuola decente, un professore, un compagno. Chi? Chi? È tutto perfetto fino a qui. Perché ti sei fermato? Non si può tornare indietro adesso. Ma guarda quanto sei triste, sei triste. Ma cosa sei triste? Ma guarda quanto sei triste? Non è molto simile. Ma guarda quanto sei mai. Ma guarda quanto si puoi trovare per tutta. Grazie per la visione!